Le fascinose atmosfere della vecchia Hollywood rivivono a Chioggia Sottomarina con Saldi da Oscar, manifestazione organizzata da Ascom per salutare l'inizio delle svendite invernali. Nonostante il freddo pungente, ottimo l'afflusso di gente che ha popolato le vie del centro storico e di negozi, allestiti per l'occasione con vetrine a tema, in molti casi animate dalla simpatia di modelle o dal virtuosismo dei professionisti del bodypainting. Non solo Chioggia Sottomarina con Saldi da Città, ma anche numerose le presenze provenienti dai comuni limitrofi, attirate dalla voglia di vivere un pomeriggio di shopping e di intrattenimento per tutta la famiglia. Complice di questo dato, la sinergia con il comune, che su richiesta di Ascom, ha concesso per due weekend l'utilizzo gratuito dei parcheggi. Bisognerà entrare in un'ottica un po' diversa, di cominciare ad usare i parcheggi a servizio della città, in modo che la città deve essere libera dal traffico. Questo è, secondo me, uno dei motivi principali per creare un bellissimo centro naturale e commerciale. Tre i punti spettacolo strutturati, che hanno preso vita con intrattenimenti a tema e con sfilate, dove impavide modelle e modelli hanno sfidato il freddo per presentare le proposte dei negozi della città. Le manifestazioni servono per attirare la gente in città. Dopo i negozianti devono fare la propria parte per attirare la gente che è venuta in città all'interno dei propri negozi. E quest'anno abbiamo visto un buon risultato, perché la cosa che ci è piaciuta più di tutti è avere visto gente nei negozi. Soddisfatti i vertici di Ascom, che pongono l'accento sul buon lavoro di squadra delle attività commerciali cittadine, la cui presenza ha numericamente superato il dato registrato lo scorso anno. Non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo essere noi in prima fila a organizzare e investire in questo modo. Noi abbiamo visto che facendo le manifestazioni a Chioggia la gente viene e dopo entra anche nei negozi. Però ognuno di noi dobbiamo fare la nostra parte. Come Ascom noi non diciamo noi e voi, l'Ascom siamo noi. In quota parte ognuno deve fare la propria parte. Se la precedente iniziativa Saldi al Bacio era stata un successo, questa volta è il caso di dire Chioggia, centro commerciale a cielo aperto da Oscar.